Il ballerino ha lasciato il serale durante la terza puntata ed è stata una delle eliminazioni più discusse di sempre, domani sarà ospite da Signa Tuffanini per raccontare le reazioni. Tommaso Stanzani ospite a Verissimo dopo Amici 2021. Un'indizia arrivata pochi giorni fa è che ha mandato in 50 i fan del talent show di Maria De Filippo. Il ballerino era uno dei più amati da casa, ma per una sequenza di fatti è stato eliminato nella terza puntata del serale. Troppo presto per tutti, sia per lui quel che sentiva che stava migliorando tanto sia per il pubblico. Tutti lo rimpiangono, nessuno era pronto a rinunciare alle sue esibizioni nel corso delle puntate, non così presto al meglio. Ma è inutile piangere sul latte versato, Tommaso è pronto a guardare avanti e tutti coloro che lo hanno appoggiato fino a oggi continueranno a farlo anche dopo Amici. Domani Tommaso parlerà delle sue emozioni e delle sue sensazioni a una settimana dall'uscita dal serale di Amici. L'intervista andrà in onda sabato 10 aprile, ma sono già note alcune anticipazioni. Per esempio si sa che Tommaso Verissimo riceverà una sorpresa inaspettata, ma non si sa da parte di chi. Sarà forse Maria, oppure la sua maestra Alessandra Celentano? Lo scopriremo solo domani. Ciò che invece è già noto è il suo stato d'animo. Il ballerino ha raccontato che si sta riprendendo dalle emozioni provate per l'eliminazione, ma è felicissimo. Quella Verissimo sarà la prima intervista in televisione dopo l'eliminazione da Amici 2021. Come sta vivendo questo momento? Non ha intenzione di fermarsi. Questo per lui è solo l'inizio e lo ha aiutato a capire tante cose. Sia dal punto di vista artistico e professionale sia come persona. Non ha nascosto però che non si aspettava di uscire. Così come i suoi genitori, Tommaso ha lasciato il pattinaggio per dedicarsi alla danza. Una scelta che non aveva convinto i suoi genitori, entrambi campioni di pattinaggio. Il suo talento come ballerino però adesso è sotto gli occhi di tutti e anche mamma e papà Stanzani, dovuto prenderne altro. Tommaso Stanzani dopo Amici dovrà studiare ancora, ne è consapevole. Ma farà il ballerino, come vi ha ricordato la Celentano quando è stato eliminato.